Ciao a tutti, oggi andiamo a fare questo ciondo con la resina UV, però non solo con la resina. Andiamo a utilizzare anche i granellini di fimo, questi qua cioccolatosi, perché voglio provare a fare il gelato alla stracciatella come mi era stato consigliato da Giorgio, mi ricordo. Io mi ricordo tutto ragazzi, forse, vabbè. Comunque, ho questo colore qua che a me sembra bordeaux marroni, quindi va bene, tipo le mie unghie, che nella bustina non si vede niente. Comunque, prima di fare questo qua, volevo fare il cono. Il cono lo farò semplice, 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 utilizzando questo gessetto qua. Non ho mai usato i gessetti per colorare la resina, quindi sarà una buona cosa da vedere. Adesso metto i guanti e prepariamo la resina. Ok, tanto che ho messo i guanti, ho messo anche un po' di resina qui, e adesso vado a, mi sa che non ho messo la sbraga in mezzo, perché è strano, a mettere il gessetto. Devo mettere in tanto, penso. Sono troppo belli i gessetti da utilizzare. Dovrei farlo di più. Ok. Ovviamente ho zozzato, ma che novità, stuzzichino. E mescoliamo. Ok. Poi ho sul coso i guanti blu, come al solito. E adesso comincio a riempire i buchi. Non ne metto troppa, e poi farò anche un secondo strato. Bello, mi piace il colore che è venuto. Aspettate, vediamo se riesco a fare un po' lo zoom. Ok. Perché io non è che guardo tanto dentro al telefono. Guardo di più fuori, perché non ci sono con le misure, se no. Ok. Questo è grosso. Mi sa che c'è anche una bolla enorme, sì. Mi piace davvero tanto il colore che è venuto. Poi comunque, se si sporca il metallo fuori, prima di metterlo nel fornetto, basta pulirlo un secondo. Tipo io faccio così. Nessun problema. E come al solito ho fatto una spraga in mezzo di colore. Va bene. Tanto devo fare altre passate, quindi. Mi servirà. Ok. Mi è rimasto un bochino. E ora. Pulisco come ho fatto prima. Metto nel fornetto e faccio la seconda passata. Penso di farla da sola la seconda passata, perché è la stessa identica cosa che ho fatto ora. Allora, mentre ho messo il cono, il cono gelato ad asciugare, cominciamo a preparare il gelato sopra. Metto un bel po' di resina. Ma non troppo. Come minimo non ho messo troppo. Va bene. Ok. E poi vado a metterci un po' di pigmento bianco. Leggermente. Non proprio leggermente, però. Un po' di pigmento bianco. Per fare il gelato alla strasciatelà. Vediamo se così va bene. Perché non voglio farlo troppo, troppo bianco, perché poi ho paura che mi toglie il colore da cioccolato. Boh, proviamo. Ok, qua che litigo con lo zoom. Ok. Vediamo cosa succede. Guarda che mi sa che non ho messo troppo. Sono tutti sulle dita. Babbè. Wow. Ottio, una cosa bellissima. Oh. È bellissimo. Non vorrei che fosse un po' poco. Però dobbiamo aspettare che si asciughi bene. Intanto io mescolo. Guardate qui. Tutto sporo. Ho sporcato tutto. Magari ne metto qualcuno in più. Intanto il fornetto si è spento. Ragazzi qua ormai è una gelateria. Gelateria. Dogeistica. Ok. Tiriamo fuori il nostro violotto. Eccolo qui. E ci mettiamo dentro tutta sta popotta. Adesso metto anche al centro magari. Non sarebbe male. e rifacciamo lo zoom. Ok. Ok. Non vorrei averne messo troppo e poi non si asciuga. Ok. Qua è sporcato un attimo. Mi sa che ne ho messo proprio troppo. Allora. Beh ma secondo me basta lasciare un po' di più. Però. Facciamo. Ok. A parte che qua è colato tutto. Fogliamo col dito. Ok. Facciamo così. Poi voglio metterci sopra qualche granellino. Ok. E adesso con lo stuzzichino spostarli qua e là. Per farli vedere un po' più. Insomma. Mi piacciono un po' di più sommersi. Che si vedano alcuni ma non tutti. Oh wow è bellissimo. E' bellissimo. Cerchiamo di togliere un po' qui. Ok. Quindi non mi resta che magari mettere qualche granellino qua là. Che metterlo nel fornetto ora. Uh come è grosso questo. Aiuto. Non riesco prenderlo. Ok. Ragazzi mi piace tantissimo. No vabbè. Forse è qua colato un po' troppo. Infatti. Facciamo così. Facciamo che sto facendo disastri. Lo blocco subito con la lampada prima che cola tutto. ok adesso lo asciugo poi tolgo lo scotch pulisco qua il disastro che ovviamente ho fatto e poi guardiamo il risultato. Ed ecco qui il risultato nella nebbia. Oddio è troppo bello. guarda che non metto a fuoco. Ma che strano. Vediamo un po'. Oh non ce la fa proprio eh. Vediamo così. Ma che valordo. Che valordo. No veramente. Ok ragazzi. Questo è il risultato. Questo è il davanti. E il dietro è bellissimo. E niente. Quindi voi fatemi sapere cosa ne pensate di questo gelato alla stracciatella. Che non voglio mettere proprio a fuoco. Ecco così si vede bene. Tric. Tric. Eccolo. Così ce l'ho fatta. Olè. E niente. Quindi voi fatemi sapere cosa ne pensate di questo ciondolo. Io vi ringrazio per aver guardato il mio video. Vi mando un sacco di bacini. Adesso tutti a mangiare il gelato. Ciao ciao ciao. Ciao ciao.